Siamo arrivati Gesù e Maria, state per assistere amici carissimi a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione, se possibile ovviamente al termine della visione mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo, ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare? Io vi benedica, è la Santa Vergine che protegga. Laudentur, Gesù e Maria, bentornati amici in una nuova puntata, questa è la quarta del ciclo di catechesi un po' particolare, perché sono catechesi meditazioni dedicate all'apparecchio alla morte di Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Oggi abbiamo una considerazione terza, in esame, intitolata Brevità della vita, con sottotitolo Quest Vita Vestra Vapor est ad modicum parenz Ecco, che cos'è la vostra vita? E' vapore che rapidamente si estingue. Un passo della citazione della lettera di Giacomo, capito lo guardo, il versetto 15. Dato che sono punti sempre un pochino concentrati, preferisco non dilungarmi in soperchi e introduzioni e procedere subito con la lettura del punto primo, seguito come sempre dagli affetti e preghiere. Ricordo che ciascuna delle considerazioni è distinta in tre punti, strutturata come una meditazione in tre punti, seguita da affetti e preghiere. Che cos'è la nostra vita? E' simile ad un vapore che a un poco di vento sparisce. Questo è proprio il sottotitolo che abbiamo visto, no? Quest Vita Vestra Vapor est ad modicum parenz E non v'è più Tutti sanno che andrà a morire ma l'inganno di molti è che si figurano la morte così lontana come se non avesse mai avvenire. Ma no, ci avvisa Giobbe, che la vita dell'uomo è breve Homo brevi vive in stempore Quasi flos e greditur et conteditur L'uomo, vivendo pochi giorni, è come un fiore che sboccia e che avvizzisce. Questo stesso comandò il signore Adisaia di predicare Clama, gli disse Omnis caro fenum Grida Ogni uomo è fieno, erba Vere fenum es populus E così fieno, erba, è il popolo Exiccatum es fenum E ceci di flos Il fieno si secca e il fiore appassisce La vita dell'uomo è come la vita di una pianta di fieno Viene la morte, si secca il fieno Ed ecco che finisce la vita E cade il fiore Di ogni grandezza e di ogni Bene mondano Una prima focalizzazione molto importante E' che ordinariamente noi ci figuriamo la morte così lontana come non avesse mai da venire Dinanzi a questo punto, questo scenario Allora Le considerazioni sono le seguenti Se anche La morte fosse Relativamente lontana Lustri Decenni E' esperienza anche delle persone che arrivano a veneranda età Se uno ci parla Di dire La vita è volata Però potrebbe anche essere Perché questo nessuno ce lo dice prima del tempo Ed è inutile fare eventuali Gesti apotropaici Scaramantici Dopo quello che sto per dire Potrebbe anche darsi che la morte sia più vicina Di quanto pensiamo anche da un punto di vista Proprio Cronologico temporale Misurabile Sulle nostre cadenze terrene Nessuno ha un contratto che Si è firmato Assicuro che morirà 80 90 O 100 anni Come succede a molti A molte pecorelle qui di questo paesino dove sto Che pare che siano molto longevi Molti arrivano ai 90 Superati Più di qualcuno si avvicina ai 100 Ma è comunque un soffio Infatti Riprende la citazione di Giobbe Dies mei Velociores cursores I miei giorni Sono stati Più veloci di un cursore La morte ci corre incontro Più presto di un cursore E noi in ogni momento Corriamo la morte In ogni passo In ogni respiro Alla morte Ci accostiamo Quod scrivo De mea vita tollitur Cioè Quello che scrivo È tolto dalla mia vita Che paraprasato significa Durante il tempo in cui sto scrivendo San Girolamo Uh quanto ha scritto Dio solo lo sa È stato uno dei padri Tanti hanno fatto così Non so dove trovavano il tempo Però il tempo che ho scritto È tempo tolto alla vita Sono considerazioni queste da fare Cioè Dall'inizio della nostra Da quando ho cominciato a parlare Sono passati 6 minuti e 27 Sono 6 minuti e 27 di vita in meno E 6 minuti e 27 in meno All'ora della mia morte Così Perché è così Cioè Il Signore la conosce All'ora della mia morte E il conto alla rovescia Si avvicina È inesorabile questa cosa Piaccia o non piaccia Uno voglia o non voglia L'unica cosa sensata da fare È pensarci Perché Gli istanti attuali Che Scorrendo Mi avvicinano sempre di più alla morte Siano vissuti al meglio possibile Niente di più stolto Che non pensarci Omnes morimur È quasi acque Di lavimur in terra Que non revertuntur Noi dobbiamo morire Siamo come acque versate in terra Che non si può più raccogliere Si legge nel secondo libro di Samuele Capitolo 14 Versetto 14 Vedi là come corre quel ruscello al mare Quelle acque che scorrono Non ritorno più indietro Così fratello mio Passano i tuoi giorni Ti avvicina la morte Passano i piaceri Passano gli spassi Passano le pompe Le lodi Le acclamazioni Che resta Nel libro di Giobbe Si legge Capitolo 17 Versetto 1 Et solum michi superes sepulcrum Non mi resta che il sepulcro Saremo buttati in una fossa E divieremo da restare Ammarcire e spogliati di tutto In punto di morte La rimembranza Di tutti i diretti Coduti in vita Di tutti gli onori acquistati Non ci serviranno Che per accrescersi La pena E la sconfidenza Ed ottenere la salute eterna Dunque Dirà allora Il misero mondano La mia casa I miei giardini Quei mobili di buon gusto Quelle pitture Quelle vesti Tra poco Non saranno più miei Et solum Michi Superes Sepulcrum Ah che allora Nessun bene Di questa terra Si guarda Se non con pena Da chi l'ha amato Con attacco E questa pena Non gli servirà Ad altro Che a mettere In maggiore pericolo La salute dell'anima Vedendosi Con l'esperienza Che le persone Attaccate al mondo Immorte Non vogliono sentire Parlare D'altro Che della loro Infermità Di medici Che possono Chiamarsi Di rimedi Che possono Giovare E quando Si discorre Loro dell'anima Subito si tediano E vi dicono Che li lasciate Riposare Perché loro Duele il capo E non possono Sentire parlare E se talvolta Rispondono Si confondono Ne sanno Che dirsi E spesso Dai confessori Si dà loro La soluzione Non perché Si conoscono Disposte Ma perché Non vi è tempo Da aspettare Così muoiono Quelli che poco Pensano Alla morte Qui ci viene detto Una cosa Molto semplice Che tanto più Si è attaccati I beni terreni Quanto più La morte Sarà vissuta Con angoscia Perché Avvicinandosi La morte I beni terreni Si devono lasciare La forza Non ci sono alternative E però Quanto più Quanto più Questa cosa Avviene Quanto meno Si pensa Ai beni Dell'anima A me è successo Qualche volta Nella mia esperienza Di sacerdote Lo ricordo Di essere Trovati in situazioni A volte un pochino Imbarazzanti Perché magari Ti chiama Qualche familiare Poi però Non è che tu Puoi dargli Sacramenti Controvoglia Per forza Allora Ma no Adesso Meglio di Adesso Non mi sento Tanto bene Digli al parroco Che torna domani Succedono Proprio esattamente Come sono descritte Qui Perché psicologicamente Ecco perché Molti non chiamano Oggi il parroco No Se arriva il parroco Il parroco È Foriero di sventura Perché se arriva il parroco Arriva la morte Ma la morte Non ci voglio pensare Neanche in punto di morte Sapeste quante volte No Mi sono trovato Perché ci sono I malati Che hanno bisogno Di assistenza Magari Ci hanno le cure Domiciliari No Arrivo io Magari Ho la comunione Da dare E in contemporanea Arriva Che ne so L'infermiere Che deve fare La medicazione Le cose Eccetera Eccetera Chi va avanti Come viene percepito Cioè Qual è la priorità Percepita oggi Io ci sono passato Ma non è che mi offendo Per me Carità di Dio Ma E c'è l'infermiere Vado Aspetti un attimo Almeno c'è nessun problema Non lo so Se il nostro signore Che magari Ce l'aveva con me Dentro la teca Come dire È così Se si può fare Nei confronti Di nostro signore Perché poi Non è che C'ho la scienza infusa Quindi Sono situazioni Imbarazzanti Cioè Mi chiedo In altri tempi Ci sarebbero stati Questi comportamenti Cioè Tarigo il prete Con il Santissimo Sacramento Ci sono Aspetta un attimo Che c'è l'infermiere Prima facciamo passare lui Che deve fare la medicazione Non lo so Cioè Queste cose Devono aiutarci A riflettere un po' Cioè Chi ascolta Anche queste 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 considerazioni Perché per queste L'archista di Sant'Alfonso No Cioè Noi che pensiamo Se io stessi male Ma arriva in contemporanea L'infermiere O il prete Chi dico Vieni avanti A chi dico Vieni avanti Al prete O all'infermiere Nessuno sta dicendo Che la vita Che la salute O che la vita Non debbano essere curate O debbano essere trascurate Intendiamoci bene Noi abbiamo il dovere Abbiamo il dovere grave Davanti a Dio Di curare la salute Del corpo Ovviamente in maniera Accurata Ma non esagerata E abbiamo anche il dovere Di mantenerci in salute Evitando tutti quanti I comportamenti Di vario genere Discritti in tante circostanze Che sono nocivi Al nostro corpo Vizi inutili Comportamenti Devastanti Abitudini alimentari Tossiche Eccetera 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 Ok Però Prioritario È il dovere Di Badare alla salute Dell'anima O no Il problema Amici È molto semplice Alla fine La vita è la nostra Cioè La vita tua È la vita tua Cioè Nelle Nelle grandi scelte Di vita Noi siamo soli Non voglio adesso Pervenire all'angoscia Nel senso Sei tu che devi decidere Cosa è importante Per te Sei tu che devi decidere Su cosa investire Sono io Sei tu Ognuno Come si diceva Un proverbio Ognun per sé Dio per tutti Su questo Gli affetti Del primo punto Ah mio Dio E Signore In infinita maestà Mi vergogno Di comparirvi davanti Quante volte Vi ho disonorato Posponendo la vostra grazia Ad un sordito piacere Ad uno sfogo Di rabbia Ad un poco di terra Ad un capriccio Ad un fumo Ah nel 1700 Già si fumava Certo Era stata già scoperta L'America Giusto Adoro e bacio Il mio Redentore Le vostre sante piaghe Che io peraltro Vi ho fatto Con i miei peccati Ma da queste medesime Io spero Il perdono E la salute Fatemi conoscere O Gesù Il gran torto Che vi ho fatto Di lasciare voi Fonte D'ogni bene Per abbeverarmi Da quei pudri Di avvelenate Che mi trovo Di tante offese Che vi ho fatte Se non pene Rimorsi Di coscienza E meriti Per l'inferno Pater Non sono digno Sfocare Filius Tuus Padre mio Non mi riscacciate Non sono degno Di essere chiamato Tuo figlio Spero che si capisca Vi fermo un attimo Perché qui c'è Un particolare Non lo so Quanto oggi Sia curato Me Sinceramente Una volta sola Nella mia esistenza S'è stata forse due Tre Due me ne vengono in mente Sicure Negli antichi rituali Non mi ricordo Se anche nel nuovo In questo momento C'era scritto Dopo che tu davi L'olio santo C'era proprio scritto Nella nuova pudichetta E dice Adesso bisogna lasciare Al malato Un bel crucifisso All'agonizzante E raccomandargli Che lo guardi E che lo baci Capite che bello morire Proprio baciando materialmente Il crucifisso Io l'ho detto Tante volte Durante le mie catechesi Più si fa E meglio Cioè Baciare il crucifisso Baciare il rosario Baciare un'immagine sacra Non è un gesto Da bambini O un gesto Devozionale Da bigotto Ma che tanto Non serve a niente Che ti metti A sbaciucchia la statua Che serve No Non è che serve Serve come Perché il bacio È un atto d'amore Noi abbiamo Anche dei baci liturgici No Il sacerdote Bacia l'altare Bacia il Vangelo No L'epifania Spero che ancora Si faccia nelle chiese Si ostende Gesù il bambino E si bacia Gesù il bambino O no Il venerdì santo Si bacia Si adora E si bacia Il crocifisso O no Sono gesti Anche liturgici Perché Perché uno che bacia Il crocifisso Sinceramente Amici cari Io non mi sostituisco All'altissimo Per carità Però è molto difficile Che vada all'inferno Di soltanto Cioè Il nostro signore Aspetta tanto così Cioè aspetta un movimento Della nostra volontà Per almeno Risparmiarci La dannazione Il che insomma Non è tanto poco Se uno dà un bacio Col cuore Al crocifisso Ma scherziamo A me non piace Fare prediche Che Che instillino Nel cuore Delle persone Anche se mi piacerebbe Poterle fare Di questo genere L'ho detto tante volte Che andiamo tutti In paradiso Io Lo auguro a tutti E lo spero per tutti Lo auspico per tutti Ma non posso dire Da sacerdote State tranquilli Che andiamo tutti In paradiso Perché poi Il nostro signore A me mi fa correre E le maledizioni Che mi beccherò Da quelli che Credendo All'eventuale stupidaggine Di questo genere Che avessi detto Quando poi Al paradiso Non ci andranno Dio solo lo sa Quindi Io non amo Però Sento di poter dire In coscienza Che chi bacia Il crocifisso Per quanto Mi sembra Di percepirne Che vada All'inferno È un po' Difficile Ecco perché Adore e bacio O mio redentore Le vostre sante piaghe Che io peraltro Vi ho fatto Con i miei peccati Quando baciamo Le piaghe Di nostro signore Se posso dare Un consiglio La mattina Risveglio La prima cosa Prima di andare A dormire L'ultima cosa E alle tre Del pomeriggio Gesto che Secondo me È graditissimo Al signore Le cinque piaghe La mano destra La mano sinistra I piedi E il costato Consiglio spassionato Poi Non è un dogma di fede Per carità Però È vero Proseguono gli affetti Che io Non merito più La vostra grazia Che mi renda vostro figlio Ma voi siete morti Per perdonarmi Voi avete detto Convertimili a me Convertar vos Convertitevi a me Di cui mi rivolgerò a voi Io lascio tutte le mie soddisfazioni Vi denuncio a tutti i gusti Che mi può dare il mondo E mi converto a voi Perdonatemi Per lo sangue Sparso per me Mentre io Mi pento Con tutto il cuore Di tutti gli oltraggi Che vi ho fatti Mi pento E vi amo Sopra ogni cosa Io non sono degno Di amarvi Ma voi siete degni Di essere amato Bellissimo Questa frase Accettatemi ad amarmi Non disdegnate Che vi ami Quel cuore Che un tempo Vi ha disprezzato Voi apposta Non mi avete fatto morire Quando stavo in peccato A ciò che vi amassi Sì Che vi voglio amare Nella vita che mi resta E non voglio amare Altro che voi Aiutatemi voi Datemi la santa perseveranza E il vostro amore Maria Refugio Mi raccomandate Un'altra piccola cosa Mi pento E mi amo E vi amo Sopra ogni cosa Questo è l'atto di carità Gli atti Sono importantissimi Fare l'atto di dolore È importantissimo Non è la stessa cosa Andare a dormire Avendo fatto l'atto di dolore Oppure no Con l'atto di carità Perché Non c'ho il mio libro La vita morale E le virtù cristiane L'ho spiegato In questo testo Quando noi facciamo Un atto Quell'atto Ci perfeziona In direzione Di quella virtù Di cui l'atto È espressione Cioè Se io faccio Un atto di dolore Crescerà in me Lo spirito Di compunzione Di contrizione Per i peccati commessi Se io faccio Un atto d'amore Glielo dico al Signore Ti amo Sopra ogni cosa Mio Dio Ti amo Con tutto il cuore Sopra ogni cosa Perché sebbene Il finito È nostra eterna felicità E per amore tuo Amo il prossimo Come a me stesso E perdono le offese ricevute Lo sapete a memoria Questo è l'atto di carità Che si recita Tutti i giorni Mattina e sera Lo sappiamo a memoria Non è la stessa cosa Dirlo o non dirlo Non è la stessa cosa Fare un atto d'amore In più o in meno Leggete gli scritti Di quella bellissima E grande suora Che era sorconsolata Abitrone L'apostola dell'atto d'amore Gesù ti amo Gesù e Maria vi amo Salvate tutte le anime Più si dicono E meglio Eh queste cose qui Perché ogni volta Che si dice Anche se tu non Te ne accorgi Nel tuo cuore Aumenta l'amore Verso Gesù E verso Maria E che è La cosa più importante Che ci sia Ecco Rima Mezza voluta E mezza casuale Va bene Andiamo al secondo punto Piangeva il re Ezechia Precisa Est veruta Texente Vitamea Dum Aduc Ordirer Succidit me La mia vita È tagliata Come dal tessitore La tela Mentre io Ordivo Mi hai deciso O a quanti Al meglio Che stanno tessendo La tela Cioè Ordinando Ed eseguendo I loro disegni Mondani Presi con tante misure Viene alla morte E taglia tutto Alla luce Di quest'ultima Candela Svanisce Ogni cosa Di questo mondo Applausi Divertimenti Pompe Grandezze Gran segreto Della morte Ella ci fa Vedere Quel che non vedono Gli amanti del mondo Le fortune Più invidiate I posti Più grandi I triunfi Più superbi Perdono tutto Lo splendore Quando Si ravvisano Dal letto Della morte Le idee Di certe Falze felicità Che noi ci siamo Formate Si cambiano Allora In sdegno Contro la propria Pazzia L'ombra Nera E funesta Della morte Copre Copre Ed oscura Tutte le divinità Anche regali Già fatto La ricorderemo Un punto di meditazione Su questo concetto Santo Alfonso Sul letto di morte Siamo tutti uguali Ora le passioni Fanno apparire bene Di questa terra Altro di quel che sono La morte Gli scopre E fa vederli Quali in verità sono Fumo Fango Vanità E miseria Oddio A che servono Le ricchezze Bene Ci sono alcuni Super ricconi Che sono morti Io Sono 53 anni Non ho visti Passare tanti Che ci fai Con tutti i soldi Che hai Sul letto di morte Vediamo Che ci fai Che ci fai Ha senso Spendere una vita Accumulando 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 C'è la parabola evangelica Del Dell'uomo stolto Ah che bello Ah i miei raccolti Adesso Ah Metterò tutto Nei granai Dico Ah Anima mia Datti Alla pazza Gioia Stolto Domani Gli sarà chiesto Conto Della tua vita E tutta la fortuna Che hai accumulato Di chi sarà Che ci fai Che ci facciamo A che servono Le ricchezze Scrive il santo I feudi I regni Immorte Quando altro Non tocca Che una cassa di legno Ed una semplice veste Che basta coprire Le carni A che servono Gli onori Quando altro Non tocca Che un funebre Accompagnamento Di una pomposa Esegue Che niente Gioverà l'anima Se l'anima è perduta Avete visto Questo è diffuso Tra gli ambienti Notoriamente Malavitosi Si sa I funerali In pompa magna I cavalli Le carrozze I pagani Si facevano I mausolei Oppure Le super Le super cappelle Megagalattiche Che c'hanno Di famiglia In marmo Per carità Non è che se uno Vuole farsi la cappella Di famiglia Non c'è niente di male Meglio che puntualizzo Sennò poi Si rischia Di essere fraintesi No ma A che serve Soprattutto se l'anima È perduta A fare Bel funerale E allora Se l'anima Sta all'inferno Non è che il bel funerale La tira fuori dall'inferno La vanna a paradiso Non succede niente Non succede È la bellezza del corpo Gli idolatri È la bellezza Anche qui per carità Nessuno deve andarsi A sfregiare Come dire Per il gusto dell'orrido È la vita Per carità La cura del decoro È sempre una cosa buona Sempre Io se posso Permettermi Per uomini E anche per donne La bellezza La bellezza al naturale Al naturale La cura Normale Insomma Ti fai la barba Ti tieni i capelli Ordinati Se ce l'hai Mi hai accorto? Ti vedo a volte Certi ometti Non so se posso Permettermi Questa battuta Che dentro le orecchie C'hanno i cespugli Che escono fuori Gli spunzoni Così Se te li togli Che cos'è vanità? Ma no Quello è Decorre Il rispetto Per se stessi D'accordo? Però tutto quello Che è artefatto Io personalmente Nel soltanto Non mi piace Ma C'ho qualche dubbio Esprimiamoci sempre In termini dubitativi Che Sia Gradito Al cielo Diciamo Gradito Non vuol dire Che è peccato Per carità di Dio E se no Qua ricominciamo Con le questioni Gradito Non vuol dire Che se si fa È peccato Personalmente Io penso Che Di per sé La bellezza Non è Una cosa Negativa Si è vissuta In un certo modo Perché in paradiso C'è la bellezza assoluta Dio è somma bellezza Però Al naturale Al naturale Su questo Penso che Qualche signorina Qualche problemino Ce l'avrebbe Però È uno spunto Di riflessione D'accordo Poi Ognuno È libero Di prendere Queste Considerazioni Farci quello che vuole Ignorarle Per carità Non sono dogmi Di fede Riflessioni 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 Possibili Da c'è Chi ha fatto il corpo Potrebbe essere Potrebbe essere Che uno Che comincia A Artefare O a Alterare Anche il problema Di tatuaggi Sta dicendo Sta dicendo Che vuole fare qualcosa Di più bello Di quello che ha fatto lui La butto lì Domanda Domanda Per carità Ci si può pensare No Cretinate Cretinate Per carità Domanda però A che serve La bellezza del corpo Scrive Sant'Alfonso Se altro Non resta Allora che Vermi Puzza Ed orrore Per esempio Questo linguaggio Un po' Forte Anche prima Di morire E poi Un poco Di polvere Puzzolente Ad abundansiam Ognungiamo Anche questo Posuit me Quasi in proverbium vulgi Et exemplum sumum corameis Mi hai fatto La favola del volgo E Con un esempio Davanti a loro Giobbe 17 Muore quel ricco Quel ministro Quel capitano E da allora Se ne parlerà Dappertutto Se muore Un personaggio famoso No Ma semmai Egli è vissuto male Diventerà la favola Del popolo Proverbium vulget Exemplum E come Esempio Della vanità Del mondo Ed anche Della divina giustizia Per correzione Degli altri Nella sepoltura Poi Staregli confuso Tra gli altri Calaveri dei poveri Parvus Et magnus I bisunt Il piccolo E il grande Stanno lì A che gli avvalza La bella disposizione Del corpo Se ora non è che Un mucchio di vermi A che l'autorità avuta Se ora il suo corpo È buttato a marciere In una fossa E l'anima è stata Gettata Ad ardere nell'inferno Facciamo attenzione A quelli che A quelli che gli piace Come Anna Non gli piace Soltanto I camordisti E i mafiosi Come Anna Magari Come Anna Piace a tanti Piace A vari livelli Io Posso dire Che Non è affatto bello Dover esercitare L'autorità Sugli altri Non è cosa Che si fa A cuor leggero Perché già È complicata Esercitare l'autorità Su se stessi Quindi Cercare di fare Delle decisioni In coscienza Decenti Agli occhi Dell'altissimo Figuriamoci Quando tu vai A coinvolgere Il prossimo Di cui Peraltro Se sei costituito In autorità Di cui Sta attento A quello che fai Perché il nostro signore Conto te ne chiede Ti piace Comandare Quando uno C'è la coscienza Un pochino Un po' Increspata Se non comandare È una cosa Che Signore mio E ci hai messo qui Come pregava Salomone Libro della Sapienza Dammi la grazia La forza Di ben governare Il tuo popolo Perché se lo governa male Il popolo Va a fare Una brutta fine Ma chi risponde Del mal governo Davanti a Dio Chi è? È il re E nel libro Della Sapienza C'è scritto Che un giudizio Severo Incombe A coloro Che stanno in alto Proprio perché Stanno in alto È tanto più severo Perché il signore Guarda il cuore Quanto meno Tu In coscienza Non ci preghi sopra Quindi non stai attento Prima di prendere una decisione Ponderando bene Quando coinvolge La vita degli altri L'autorità Oh che miseria Il servire di soggetto Agli altri Per fare queste riflessioni E non averle fatte In proprio profitto Tutti i megalomani Del pianeta Terra Tutti E ce ne sono stati A go go Che fine hanno fatto Emblematico È il caso di Napoleone Buonaparte Che poi prima di morire Si è dovuto inginocchiare Meno male Quindi forse La sua anima è salva Addomine Dio Che per tutta la vita Aveva combattuto In maniera Provocatoria Addirittura sfidando La Chiesa Incarcerando il Papa Nell'illusione Di poter abbattere La Chiesa Qui sono tutti quanti In guerra Contro la Chiesa Nell'illusione Di poterla abbattere Meglio che non dico Qui in questa sede Il sarcasmo Con cui alcuni cardinali Disposero A sua eccellenza Buonaparte Quando Si sfregavano Dicendo Abbiamo catturato il Papa Adesso abbiamo abbattuto La Chiesa Meglio non rispondere Quello che La freddura Che gli rispose Qualche cardinale Buon tempone Insomma A sua eccellenza Persuodiamoci dunque Che per rimediare Disordini della coscienza Non è tempo proprio Il tempo della morte Ma della vita Adesso Dobbiamo pensarci Affrettiamoci di fare Ora Quel che non potremo fare Allora Tempus brevest Si legge nella prima lettera Il tempo si è fatto breve Tutto presto Passa e finisce Perciò facciamo Che tutto serva Per acquistarci La vita eterna E vediamo La seconda serie Di affetti e preghiere O Dio dell'anima mia O bontà infinita Abbiate Pietà di me Che tanto vi ho offeso Sapevo io Già che peccando Perdevo la vostra grazia L'ho voluta perdere Se volete Se volete che io mi penta Dei miei peccati Sì Me ne penta Con tutto il cuore Vorrei morirne Di dolore Se volete Che speri il perdono Da voi Sì Lo spero Per i meriti Del vostro sangue Se volete Che io vi ami Sopra ad ogni cosa Io lascio tutto Le lascio tutti i gusti E i beni Che può darmi il mondo E vi amo Più di ogni bene Il mio amabilissimo Salvatore Se volete Poi che io vi domani Grazie Due grazie Vi cerco Non permettetemi Che io vi offenda più E fate che io vi ami E poi trattatemi come volete Quindi specchiamoci Se questa è la nostra preghiera Che chiediamo al Signore Non permettetevi Che vi offenda più E che vi ami Basta Sarebbe bello Se fosse così La nostra preghiera No? O no? Maria speranza mia Ottenetemi voi Queste due grazie Da voi le spero Ricordiamocene Che non vi offenda più E che vi ami Altro Non è così tanto necessario Terzo ed ultimo punto Che pazzia dunque Per le miserie Brevi diletti Di questa così breve vita Mettersi a rischio Di fare una mala morte E con quella Cominciare un'eternità Infelice O quanto pesa Quell'ultimo momento Quell'ultima Aperta di bocca Quell'ultima Chiusa di scena Pesa un'eternità O di tutti i contenti O di tutti i tormenti Pesa una vita O sempre felice O sempre infelice Pensiamo che Gesù Cristo Vuole morire con una morte Così amara E ignominiosa Per ottenere A noi una buona morte A questo fine Ci da tante chiamate Ci dono tanti lumi Ci amulisce con tante minacce Affinché Accertiamo Di finire Con l'ultimo momento In grazia di Dio Allora Secondo Secondo Sarà vero Sarà vero Che Dopo la morte Le sorti sono due O eterna felicità O eterna felicità Perché purgatorio e limbo Esistono Oltre due Sono temporanei E sia l'uno che l'altro Sono comunque l'anticamera Dell'eterna felicità Il problema è l'inferno Cioè Ma poi c'è il terzo step Sarà vero Come oggi Si sente dire in giro Che tanto Vabbè Dio è buono Quindi ma ti pare Che permette Che qualcuno Vada all'inferno Anche no Su Siamo seri Speriamo che sia vuoto O È lecito almeno sperarlo No Perché L'inferno Come è stato descritto Nella tradizione Non è che è semplicemente Ah Vabbè Non vedi Dio Però Vabbè Non vedi Dio Però Tutto sommato Ti fai un caffè tra amici E finisce lì No 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 L'inferno L'inferno è un luogo di tormenti Eterni Non so se Se mi spiego Eterni Ci confiscono mai A st'inferno A st'inferno Perché una volta Perché una volta Guardate che la maggioranza Purtroppo Purtroppo E le risposte Perché adesso è un momento Una delle due ruote Vita o morte Muoio in questa notte L'avrai E' un po' E tutta la tua famiglia Che cosa Che cosa ci ha insegnato La Madonna Fatima Di dire Terminata ogni decina Del rosario Quella bisogna dirla Gesù mio Perdona le nostre colpe Preservaci dal fuoco Dell'inferno Perché non è Una ipotesi Diceva Beh l'inferno Sì ma Io sicuramente Non ci vado Ma i santi Nessuno ha pensato così Io non penso così Dio mi è testimoni Io non penso così Io lo imploro Nostro Signore Di raggiungere La salvezza eterna Lo spero Con tutto il cuore Perché all'inferno Oltre che Che tormenti C'è una grossa tragedia Carissimi Che non si amano Gesù e Maria Non si può più dire Gesù ti amo E Maria ti amo Si odiano Le fonti stesse Dell'amore Oltre a godiarsi Tra di loro Tremava ancora Un San Luigi Bertrando Talmente che la notte Non poteva prendere sonno Al pensiero Che gli diceva E chissà se ti danni Questi sono i santi E tu Dice Sant'Alfonso Che ti trovi Con tanti peccati fatti Non tremi Presto Rimedi a tempo Risolvi di darti Davvero a Dio E cominci almeno Da questo tempo Una vita che non ti affligga Ma ti consoli In morte Datti all'orazione Frequenta i sacramenti Lascia le occasioni Pericolose E se bisogna Lascia ancora il mondo Assicura la tua salute eterna E intendi che per assicurare La salute eterna Non vi è sicurezza Che basti Capito come parlavano E come ragionavano I santi Immagino che cosa Io che sto leggendo Sant'Alfonso Immaginate se io Me ne uscissi Con una predica Così Senza citare Sant'Alfonso Arriverebbero Qualcuno Mi scarica il video E mi ci fa Il video Di commento Questo Terrorizza le persone Spaventa Che razza di fede Sarebbe questa Fondata sulla Sulla paura All'inferno Alla dannazione Alla qua Alla A destra A sinistra Matematico Matematico Io sto citando Eccolo Sto citando Sto leggendo Quindi Qualunque cosa Che venga detto È rivolta A Sant'Alfonso Non a me Perché sto citando Sto leggendo Quindi Però Le faccio Queste Le faccio Queste considerazioni Immaginate Se io me ne uscissi Così Perché per molto meno Sono successe Alcune cose Per molto meno Ora Gli ultimi affetti E preghiere Così Chiudiamo Che è ora O caro mio Salvatore Quanto vi sono obbligato E come mai avete potuto Voi fare tante grazie Ad un ingrato Ad un traditore Quale io sono stato Con voi Voi mi creaste E creandomi Già Vedevate le ingiure Che io avevo A farvi Mi redimeste Morendo per me E già allora Vedevate le ingratitudini Che io avevo Ad usarvi Indi Io posto Già al mondo Mi voltai le spalle E conciò Ero morto Ero un cane Fedente E voi Con la vostra Grazia Mi avete restituito La vita Vedete il linguaggio No? Ero un cane Fedente Leggo queste cose E mi continua Come un mantra No? Dice Ma tu pensa A dirle oggi Tu pensa A dirle oggi Tu pensa A dirle oggi Io ero accecato E voi mi avete illuminato Io Vi avevo perduto Voi vi siete fatto Da me ritrovare Ero nemico E voi mi avete fatto Vostro amico Oddio di misericordia Fatemi conoscere L'obbligazione Che ho E fatemi piangere Le offese Che vi ho fatte Oh Sentite De Vendicatevi Con me Con darmi Un gran dolore Dei peccati miei Io sto leggendo Eh Ma non mi castigate Con privarmi Della vostra grazia E del vostro amore O chi Va ancora oltre E osa fare una preghiera Peccato Bene signore I miei peccati Li voglio tutti pagare Al tuo cospetto Forza Volontariamente Involontariamente Presentami il conto Basta Che non mi danni l'anima Facciamo che la misericordia Viene dopo Prima la giustizia E poi la misericordia Qualcuno prega in questo modo Ma i santi pregavano così Eh O eterno padre Io abborrisco E detesto Sopra ogni male L'ingiure che vi ho fatto Abbiate pietà di me Per amore di Gesù Cristo Guardate il vostro figlio Morto in croce Sangui Sei io su per me Il suo sangue Sopra di me Scenda questo sangue divino A lavare l'anima mia Orrete il mio cuore Adveniat regnuntum Io sono risoluto Di scacciare ogni affetto Che non sia per voi Io vi amo Sopra ogni cosa Venite a regnare solamente voi Nell'anima mia Fate che io vi ami E non altri Ami Che voi Io desidero di darvi gusto Quanto posso E di contentarvi appieno Nella vita Che mi resta Piacere a Dio Servire Lui Il grande desiderio Che dovremmo avere Poi non sempre ci si riesce Però Almeno uno ci prova E lo desidera Veneritemi voi O padre mio Questo mio desiderio E datemi le grazie Di tenermi sempre a voi unito Tutti gli affetti miei A voi li consacro E da oggi in avanti Non voglio essere Gli altri che di voi Mio tesoro Mia pace Mia speranza Mio amore Mio tutto E tutto spero da voi Per i meriti del vostro figlio Regina e madre mia Maria Aiutatemi con la vostra intercessione Madre di Dio Pregate per me Vedi come Da questi affetti Traspare chiaramente Il cuore Di questo grande santo Innamoratissimo Di Gesù e di Maria Perché per scriverle certe cose E per scriverle in questo modo Bisogna averle Nel cuore Certamente Il cuore di Sant'Alfonso Era un cuore Strapieno Di Dio E della sua grazia Dio vi benedica E la Santa Vergine Vi protegga Alla prossima puntata Per chi vuole L'Avento Iesus Et Maria Grazie a tutti